Regalare un libro per Natale è sempre un'ottima scelta. Ti invito perciò alla Fiera del Libro di San Genese ed Uniti a Pavia. Ci sarò anch'io quest'anno con il mio primo libro, Tutta la poesia che hai risvegliato in me, edito dallo specchio dell'arte, con questa meravigliosa opera di Katia Dell'Amico in copertina. Dal 29 novembre al primo dicembre, io ci sarò sicuramente per l'inaugurazione e anche sabato 30 novembre. È un posto per me magico, perché proprio lì al polifunzionale di San Genese ed Uniti ho cantato per la prima volta davanti a un pubblico vero realizzando un desiderio che avevo fin da bambina e quest'anno torno in questo posto per me magico con il mio libro. Ti aspetto, regala un libro per Natale. Tantissimi autori, tantissime case editrici. Ciao!